In tema di sostenibilità, risparmio energetico, salvaguardia dell'ambiente. Tra queste l'italiana EnjoyRicondizionati.it che vende prodotti usati rimessi a nuovo. Capitalismo sostenibile è la parola chiave in cui sono racchiuse legalità, trasparenza, qualità. Ci teniamo a dare al nostro cliente piena visibilità di quella che è stata la vita precedente del suo device. Così quando potrà ricevere il suo smartphone o il suo tablet o il suo notebook potrà essere tranquillo che il suo device sia stato trattato ma soprattutto ricondizionato in maniera etica. Quest'anno al Mobile World Congress presentiamo la app Enjoy Buyback con un processo che stiamo implementando di blockchain che permetterà la massima trasparenza per il nostro cliente finale. Chi vuole vendere o riciclare uno smartphone dunque non dovrà far altro che installare un'app che effettuerà tutta una serie di test offrendo poi una quotazione sul prodotto.